Cosa vogliono fare da grandi qui in Calabria? Una bella domanda, sicuramente vogliamo dire la nostra ma non basta dire la nostra, dobbiamo anche essere credibili o meglio dobbiamo scendere in campo e quindi partecipare anche a livello elettivo che altrimenti diventa demagogia e filosofia. Non sappiamo ancora in che modo ma sicuramente ci stiamo attrezzando. Certo è che l'attuale situazione politica ci impone comunque la discesi in campo poi dal resto noi siamo sempre state persone che abbiamo sempre operato o direttamente o indirettamente per il sociale. E' vero quello che diceva l'amico dottor Cantafi, quindi le problematiche, le grandi piaghe oltre a quelle infrastrutturali così come diceva il Cardinal Martino della Salerno Reggio Calabria che è questa grande piaga sociale ma sono quelle della sanità, quella dell'accesso al credito, quello comunque di non c'è un vero ricambio generazionale che noi auspichiamo anche e soprattutto a livello politico. Grazie a tutti.